Stiamo agendo anche per quanto riguarda i comuni e i territori con il bando di abbattimento delle barriere architettoniche 800.000 euro per i comuni e per la redazione del PEBA. Si chiama PEBA, è l'acronimo di Piano Eliminazione Barriere Architettoniche ed è promosso dalla Regione Veneto per garantire la fruibilità degli edifici pubblici e privati nonché degli spazi aperti al pubblico che è condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità. Lo scorso 13 luglio sul Burra è stato pubblicato l'avviso rivolto ai comuni che possono approfittare dei contributi messi a disposizione dalla Regione per la redazione dei PEBA. Sappiamo che anche i comuni hanno bisogno di adeguarsi, di abbattere le barriere architettoniche per sì che tutti i territori, tutte le strutture pubbliche e non pubbliche siano accessibili per tutti. Il bando mette a disposizione dei comuni un importante finanziamento per la copertura del 50% della spesa sostenuta. Abbiamo appunto messo a disposizione 800.000 euro per i comuni sopra i 10.000 abitanti che vorranno adeguarsi e quindi predisporre il cosiddetto PEBA, ossia il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche e noi partecipiamo, contribuiamo fino a un massimo del 50% nella redazione di questo piano. Piano importante perché non solo mette in evidenza i punti più critici, quindi i punti che vanno in qualche modo ritoccati, ma anche perché permetterà poi negli altri bandi dei lavori pubblici di acquisire punti. L'auspicio è che l'incentivo possa agevolare i comuni, pochi quelli che fino ad ora si sono dotati del PEBA. Primo riscontro avevamo fatto, diciamo così, una monitoraggio iniziale ed effettivamente i comuni che hanno il PEBA sono pochi. Speriamo con questo nuovo incentivo invece di riuscire a far coinvolgere molti più comuni del Veneto.